Al centro estetico delle Schmariesche Toplize vi accoglierà il dottor Sini Shaglumicic, chirurgo estetico di fama internazionale, specializzato in svariati trattamenti di bellezza. La sua funzione è quella di donare ai pazienti un nuovo aspetto giovanile sano. I metodi usati sono sempre all'avanguardia e nel pieno rispetto delle esigenze del paziente. Nel tentativo di rendere la chirurgia estetica più vicina e più accessibile a ogni persona interessata e a far sparire molti argomenti tabù su di esso, il dottor Glumicic è frequente ospite di congressi medici di estetica popolare e professionale, oppure di programmi specializzati in cui si parla di bellezza umana e apparenza. Oggi un intervento di chirurgia estetica di successo deve essere adattato individualmente per ogni paziente, insistendo sulla naturalezza e utilizzando le ultime tecnologie. Il motto della clinica, la bellezza un bisogno naturale di ogni essere umano, giustifica certamente l'impegno del dottor Glumicic e del suo team per aiutare tutti nelle loro aspirazioni a un più bello e a un meglio. L'hotel Balnea è localizzato presso le Dolensche Toplize, caratterizzato da un arredamento esclusivo, materiali naturali, corridoio panoramico in vetro per raggiungere il centro benessere Balnea e atmosfera intima. Esso entusiasma per la ricca offerta di saune, piscine e massaggi di ogni tipo, atti a ritrovare il benessere psicofisico. Qui si prenderanno cura del vostro corpo, voi potrete godere di tutta la bellezza del paesaggio e del centro benessere Balnea, dove l'acqua termale è fonte di piacere. Troverete infatti 9200 metri quadrati di superfici dedicate alle attività acquatiche e relax. Poiché la base dell'acqua termale è soprattutto la salute, tre sono le piscine termali coperte nell'hotel Vital, nelle strette vicinanze del centro per la riabilitazione medica. L'hotel è l'ideale per coloro che hanno bisogno di affidabilità. Presenza di personale medico 24 ore su 24, team di specialisti per la riabilitazione, medicina interna e fisioterapia, infermiere, fisioterapisti e massaggiatori.